La società nuova che ha voglia di fare Quindi questo ha inciso anche nel rapporto biennale più opzioni Sì, al di là del rapporto pluriannale Poi nel calcio lascia il tempo che trova Perché so bene che dipende dai risultati Ci auguriamo tutti che siano quelli che tutti ospichiamo Però l'unica cosa che posso dire è che lavoreremo sicuramente con questo obiettivo qua Come saca la chezzurita al canto? Come cagatechistica? Come mentalità? Tentiamo prima di tutto ad annoverare i calciatori più idoni a quello che vogliamo fare Mi auguro che venga fuori una squadra che non sia passiva su quello che succede Ecco, questo è l'aspetto principale E come obiettivo ci poniamo quello di tentare di dar fastidio Un po' a tutti come caratteristica di squadra Poi vediamo Sarà un mix di giovani e di giocatori più esperti? Sì, questo assolutamente sì Ovviamente è una conoscenza molto vasta per le ultime esperienze L'ultima quella con la Juve di Under soprattutto Quindi penso che qualche consiglio al direttore gliela dà No, consiglio al direttore, faccio fatica perché ha troppa più esperienza di me Però sì, abbiamo fatto una valutazione sui ragazzi migliori che si possono prendere Ora vediamo quali di questi riusciremo a prendere Grazie a tutti